Visita a console al Regno del Marocco al prefetto Raffaella Moscarella. Il prefetto di Siracusa per la provincia di Siracusa Raffaella Moscarella ha ricevuto nel discorso in visita di cortesia il console generale del Regno del Marocco in Palermo, Samira Bellali. La diplomatica marocchina in visita in Sicilia per incontri e visite istituzionali mirate a rafforzare i già consolidati rapporti diplomatici, economici e culturali tra i due paesi ha affrontato con il prefetto temi di interesse comune riguardanti l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini marocchini presenti nel territorio siciliano e siracusano. Nel corso dell'incontro istituzionale i rappresentanti dei due paesi hanno conversato in un clima di serena cordialità sui temi di comune interesse richiamando gli ottimi rapporti di collaborazione sul piano economico e sociale manifestando ampia disponibilità per occasioni di scambio interculturale. La comunità marocchina, la cui consistenza numerica è pari a 2.147 persone, è perfettamente integrata nel territorio provinciale registrando una maggiore presenza soprattutto nel capoluogo e in alcuni comuni della fascia meridionale con un contributo prevalente nel settore dell'agricoltura, parte importante dell'economia locale. Il termine della visita del console ha omangiato il prefetto di un dono rappresentativo dell'artigianato marocchino.